Ancora paura in montagna. Una ragazza di 27 anni ha approfittato del weekend per un'escursione notturna immersa nella natura. L'obiettivo era quello di vedere l'alba dal corno grande sul Gran Sasso che con i suoi 2.900 metri sul livello del mare è la vetta più alta dell'Appennino. La giovane però, residente a Cellino Attanasio, in provincia di Teramo, non è riuscita a raggiungere la cima. L'escursione infatti si è interrotta alla conca degli invalidi a 300 metri dal traguardo. A mettere fine alla gita notturna, iniziata intorno a l'una di notte con il proposito di percorrere la via normale, il percorso che conduce alla vetta occidentale del corno grande, è stato un brutto malore. La donna, forse eccessivamente affaticata dall'arrampicata, non è stata più in grado di proseguire, tanto da costringere i compagni di escursione ad allertare il 118. Così alle prime luci dell'alba, dalla base dell'Aquila, si è alzato in volo l'elicottero che, supportato da una squadra di tecnici del soccorso alpino e speleologico, ha raggiunto il gruppo di escursionisti. Collocata sulla barella, la ragazza è stata imbarcata sul velivolo e trasportata all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove sarebbe ancora ricoverata per accertamenti. Una vicenda questa che per fortuna non ha avuto alcun tragico esito, se non quello di una gita rovinata.